Ok, allora eravamo rimasti qua, avevamo finito qua con il poliziotto, dovevo andare dalla tizia qua che ci aveva affidato la missione. Grazie per la visione! Ah, mi ha inviato un messaggio Judy. Ok, la roba di Judy ancora non è pronta. Quindi, boh, finiamo questo qua e puoi dire che possiamo andare là da Panama magari. Non ho voglia di andare là a fare il concerto ancora di Johnny, lo faremo tra un po'. Non ho voglia di andare là, ma non ho voglia di andare là, ma non ho voglia di andare là. Non ho voglia di andare là, ma non ho voglia di andare là. Non ho voglia di andare là. Non ho voglia di andare là, ma non lo ho voglia di andare là. Questa mucca è più profonda di quello che pensi. Succhi a te in se non ti preoccupi. Se non gli doi qualcosa, non mi pagano. Ci siamo gesti senza questo. Non c'è nessun senso che devi mangiare. Ok, fai quello che vuoi. Non come si ascolti. Ciao, V. Sì, vieni. Vieni a casa. Jefferson ci sottolinea in breve. Grazie a tutti. E' arrivato pure l'altro tizio. Grazie a tutti. 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 Ok, direi di andare da Panam. Qua parla con Vasquez. Vabbè, non siamo con Panam. Questa che eravamo già andati un bel po' avanti. Che mi dice di girare? Questa è un bel po' avanti. 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 la Panam è un bel po' avanti un bel po' avanti un bel po' avanti un bel po' avanti. Questa è un bel po' avanti un bel po' avanti. Questa è un bel po' avanti un bel po' avanti. Questa è 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 un bel po' avanti. Così si sposta lateralmente Così mi ruoto con il mouse Lo portavi in posizione Però che palle che non posso pilotare, sparare, scusa Cioè dov'è il divertimento Perché motore? Non ha tipo una sorta di turbo che puoi mettere Non è più veloce A quanto pare no Cioè devo far far sta cosa di raggiungere il checkpoint Che è una roba da minorati E perlomeno farmelo far fast Oh adesso spadiamo un po' Sono in posizione Sono in posizione Oh ok Oh ok Oh ok Oh ok 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 Here we go Are you ready? What's happening? Cosa è che ci stiamo facendo una scopata mistica no? Ho capito? Oddio Ah no Non è proprio mistica La stiamo facendo sul serio Ok 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 Ah, le contromisure sono ok Ok, sono quando ti agganciano Arati proprio Arati male, ragazzo Adesso ci vedono tipo che siamo nudi Sì, ma non usci il nudo v, perlomeno vestiti Ah, vedi, è nudo Posso rimettermi i vestiti? Ah, vedi, è nudo Pana mi ha subito vestita Non si vuole far sgamare All of us, each on his or her own Must think first and foremost of what's good for the family Come on, Salt If I have to leave the clan, please just say so Spare me another speech of yours at the very least I'm afraid you'll have to sit through a few more Because from this day forward You will lead this family By my side I will what? I wish to do this properly But fine, have it your way I was wrong You were right That's the truth Ah, vedi It never happened again But I, I, I made a mess of so many things You said I know Non è che so tu sotto di ciò che si vuole provare pure lo che no You risked everything for this family Not even knowing whether you'd be welcome the next day Ok, ok Well, I Many things will have to change Yes, and to start with we need to leave this place Quickly We can't wait for Militech to find us Of course I will prepare our route Congratulations Terrible choice I voted 9 Thank you Thank you I need to calm down, I think Ovviamente Vine frattempo sta male Perché non riesce a non star male per 5 secondi What in hell? An interesting day I feel as if I barely evaded a rapidly approaching train It's pretty close I don't know if I could have done it without you Hey come on Oh no, fiddati Non ce l'ha avresti fatto Good to know Nobody's behind the bar That I like La birra che limonata dai E non posso girare quella visuale C'è quello che voglio adesso, non significa una cosa All'accord, Vee Non potevo tirare bomba così sulle a te adesso C'è proprio pensato... Eh... Lapsa la cosa Prendere tutto Qua non ce la fa a non sentirsi male costantemente. Qua non c'è? Qua non c'è? Qua non c'è? è più difficile ogni giorno ok, B si senti prendersi una volta per una volta cosa succede esattamente ok quindi hai mai visto del relic? il attacca di Arasaka? qualcosa con personale? l'ho visto le ad sembrava che alcuni ragazzi scambi non c'è nulla c'è un biochip in mia mente con uno di questi constructi e il chip è malato quindi prendersi definitivamente non è così semplice i relics anche mi guardano ma... quindi questo è cyberpsychosis? perché se è non, non il data del chip è effettuato con le conexioni neurali non ha nulla a fare con la cyberpsychosis se io evo la relic io moro se io non deal con il constructe io moro fuck io ho provato Ma tu non stai lasciando noi già, tu? Tutto tutto bene? Molto bene ora. Grazie per la vostra scuola. Mi piacere di ascoltare. Grazie. Sticci a un po' di più. Facciatevi a casa. Ricordate, la nostra offerta ancora sta. Se vuoi bisogno, i Aldacaldos sono qui per te. E questo, almeno, possiamo concordare. Se vuoi bisogno di qualcosa, sai dove troviamo noi. Vuoi camminare con te? Oddio, chi è sta tizia qua? Sparata fuori completamente. Con gli occhiali da sole. Delle pantaloni leopardati. Ma, what the fuck? Per ora, sì. Militech non avventura così farlo. E i nostri punti vantaggi sono davvero molto meglio. Ehi! Benvenuti alla terra del vivere. Benvenuti alla terra del vivere. Ciao. Ma tipo questo veicolo nel regalo non me lo potete dare. No, no, no. Ma sai, tutto qui... È temporale. Tutto. No, no. Ci sono. Sì, non è vero. Come posso aiutare? Inoltre, non è una scuola. Ma c'è qualcosa che può essere... Cosa che può... Tu ricordi Hellman? C'è quello che ha creato il tecchio personale. C'è l'intensità che voleva capire. Ma è stato un'esplice. Ora abbiamo bisogno di capire dove andare a fare. Tu vai trovare un modo. E quando ti lo faccio, let me sapere. Siamo aiutare. Questa famiglia sarà aiutare. Sol non era giocato, capisci? Grazie per tutto, per essere qui per me Buongiorno di te e lasciami sapere beh, per favore, guardate in contatto Sì, ho capito, grazie panna, però perlomeno lasciarmi sulla strada, no? Non posso chiamare l'auto adesso Non so neanche dove cazzo sono Nel mezzo del fottuto nulla, non c'è una cazzo di strada Tipo neanche qua vicino, capito? Possibile? Possibile? Sì, è possibile, sta succedendo Oh Da questa parte, invece Almeno tipo un sentierino che mi arriva l'auto, perlomeno No, eh Un po' in mezzo al fottuto nulla Mi sta chiamando Judy Michael ha chiamato Prima di soltanto Prima di soltanto la megatower Soprattutto sarò? Soprattutto sarò Ci vediamo Ascolto, devo rubare una macchina qua per forza loro, perchè Oddio, ci sono i bambini che Bambino al de caldo Chi sei? Tutto succede Tutto succede Non voglio rubare Non voglio rubarvi i veicoli Il problema è che sono nel mezzo del fottuto nulla E' quello il problema Aspetta un secondo Cosa? Beh Ah, ok, ok Aspetta Qua comincia la strada Un po' più in là comincia la strada, ok Oh, ma sto GPS si decide Cosa Ok, dalla mappa dovrebbe esserci tra poco la strada Ok, ora posso chiamare l'auto finalmente Che bello che arriva da dietro da dove non c'era la strada, ok Ok, un secondo solo Siamo a 34 minuti Andiamo un po' Vabbè lì c'è una secondaria qua Allora, messaggio di river Ok, questo qui è di Judy E' di continuare lì da Judy E' di continuare lì da Judy Poi, devo anche svuotare un pochino l'inventario Più o meno Guarda quanti soldi ho ora? A 55.000 Non so in realtà se faccio in tempo a fare Le missioni di Judy Non so quanto sia lungo A questo punto mi avvicino lì Un po' salvo e A perlomeno uscire da sta zona perché Completamente fuori da qualsiasi cosa Fuori dal mondo proprio Perchè No, non ci credo Non ci credo Non ci credo Si è incastrata Qui dove avevo fatto la missione Se non sbaglio Ah no qua non me la fa chiamare l'auto Si qua è il posto Ho fatto una missione con Panam Ma me lo ricordo Che scendevi tipo qua c'era un casino di gente Qua in giro Ora non c'è nessuno Oddio ma qua c'è un'auto E c'è della roba da luttare anche Nice Oddio assurda questa auto qua Ma Perché mi dice di Eeeh Assurda quest'auto qua Sì però, che cazzo c'è sulla musica country? Nitefm Cioè, dovevo per forza girare di là, ma che falle oh Watch where you're walking Watch where you're walking Sono in macchina Ausis Abdi 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 Grazie a tutti. Madonna che palle. Sto schiantando su ogni cazzo di cosa. E' allucinante. Ok, direi di... ...di salvare qua. Comunque continuiamo la prossima parte. Almeno siamo arrivati qua. Grazie. 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 Grazie.